Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 episodio dedicato principalmente a chi fa 3 running ed in particolar modo a chi affronta distanze significative o gare belle toste in quanto a dislivelli. Infatti come da titolo oggi vorrei parlare di come affrontare e gestirsi durante le salite lunghe specialmente durante le gare. L'idea come spesso accade mi è venuta qualche giorno fa mentre stavo correndo un lungo per sentieri e ho cannato completamente l'approccio ad una salita che volevo fare benino perché c'era un segmento ma giusto per fare un piccolo piazzamento che ovviamente non ho fatto scoppiando malamente già a metà e non era nemmeno poi tanto lunga. Nonostante questo mio ennesimo errore di valutazione quindi parlando bene e razzolando male vi dirò adesso un po' come agisco tendenzialmente io che strumenti uso e così via. Anche perché per chi fa 3 la salita è spesso il sale di questo sport è una sfida con se stessi e in parte se vogliamo contro la natura per così dire che può dare belle soddisfazioni chiaramente se ben vissuta anche solo per poter dire sono arrivati in cima a questa lunga salita con la forza delle mie gambe che poi il concetto di lungo di una salita è relativo ma diciamo che la mia idea in questo senso è grosso modo un'ascesa costante che sia come minimo 500 600 700 metri di dislivello se non di più anche se vogliamo dei bei chilometri verticali o roba ancora più dura un po' come potrebbe essere la prima salita che si affronta l'outro o alla vut oppure una travenanzes per chi ha fatto la loot per intenderci ovviamente questi sono tre riferimenti a caso che mi sono venuti in mente ora per chi queste gare le ha fatte comunque sia insomma pendenze belle toste dislivelli significativi per sforzi costanti e prolungati nel tempo infatti anche a livello di pendenza se ne potrebbe parlare se ne potrebbe discutere anche solo tra questi esempi che ho appena portato c'è una bella differenza tra un verticalone in pochi chilometri e una salita magari lunga ma che sale un po' a gradini con al suo interno anche ritrati dalle pendenze più dolci pertanto non posso parlare di una salita specifica o di una singola situazione con determinate caratteristiche ogni montagna ha le sue peculiarità senza contare che un conte fare una gara di vertical dove quindi c'è solo una sola salita da scannellare ed un altro affrontare un ultra trail da svariati chilometri con al suo interno una o più ascese poi anche di questa cosa dopo ne parliamo però insomma il range è quello che dicevo poc'anzi con poi ogni percorso che sarà da analizzare caso per caso e quindi venendo finalmente al sodo come ci si comporta in questi casi secondo me soprattutto come si gestiscono le energie ed il pacing per scalate che possono essere anche di tanti minuti consecutivi se non di ore in alcuni casi diciamo che chiaramente diamo per scontato che i compiti a casa siano stati fatti cioè che gli sia allenati adeguatamente con i vari lunghi con sessioni di forza workout dedicati alle salite la qualità eccetera eccetera questa è ovviamente la base e senza di essa qualsiasi consiglio non avrebbe alcun senso tra l'altro in precedenza in altre puntate ho parlato a più riprese di come allenarsi per la salita magari andate a cercare tra i vecchi episodi quelli dedicati appunto all'allenamento che oggi invece non ne parliamo se non appunto lambendolo leggermente iniziamo partiamo dalla cosa più banale ma centrale il ritmo anzi se volessimo proprio essere pignoli questo potrebbe anche essere l'unico punto da affrontare quest'oggi perché poi tutto quello che andrò a dire dopo potrebbe andare a farsi benedire se il pacing fosse cannato super semplice se siete in gara non iniziate troppo velocemente a prescindere che ci sia una salita o meno e quando poi affronterete questa lunga ascesa di cui parliamo iniziate ad un ritmo con cui vi sentite a vostro agio in modo da essere sicuri di poterlo mantenere a lungo non è un problema se ogni tanto si dovrà camminare o se lo si dovrà fare per quasi tutto il tempo specie per pendenze davvero dure o gare molto molto lunghe è più che normale anche perché è un grande classico partire forte sentendosi invincibili per il primo terzo più o meno di salita e poi man mano calare fino a doversi trascinare verso la cima invece la cosa più difficile da fare è comportarsi nel modo diametralmente opposto cioè partire relativamente piano e finire forte peccato che per noi amatori sia proprio questo alla fine dei conti il modo più efficiente per arrivare più rapidamente in vetta infatti se si rallentasse molto durante una salita specialmente se molto lunga la velocità potrebbe diminuire così tanto che il vantaggio guadagnato all'inizio si andrebbe a perdere completamente nel giro di poco tempo faccio una piccola aggiunta per la questione una salita o più salite partiamo da singola salita da affrontare se quindi si trattasse di un vertical con appunto una sola salita e basta oppure anche dell'ultima scesa della gara dove poi vi aspetta l'arrivo di lì a poco potreste provare a dividere in qualche modo gli sforzi idealmente di questa scalata in tre fasi faccio un esempio prendendo una salita da 900 metri di dislivello totali la si divide in tre così che in questo caso escano fuori tre parti da 300 metri di ascesa ognuno il primo terzo andrebbe affrontato leggermente sotto ritmo perché ogni briciola di energia risparmiata in questo primo tratto la si utilizzerà successivamente in special modo nell'ultimo si potrebbe aumentare leggermente lo sforzo nella fase centrale ma senza esagerare seguendo il vostro ritmo di salita classico diciamo così ideale e assicurandovi di non andare fuori giri infine l'ultimo tratto l'ultimo terzo si potrebbe fare a tutta o quasi con le energie rimaste qua forse il ritmo rimarrà alla fine della fiera probabilmente lo stesso del secondo tratto ma lo sforzo percepito sarà più alto perché sarete più stanchi ed è una cosa assolutamente normale ma è proprio questa la chiave anche solo mantenere lo stesso passo di ascesa in modo costante significherebbe che state facendo un ottimo lavoro riuscire invece ad accrescerlo ulteriormente vorrebbe dire che state ottenendo un grosso risultato in generale se non si è sbagliato l'approccio si dovrebbe essere in grado di mantenere la stessa andatura del secondo tratto fino alla vetta senza rallentare ecco perché è fondamentale prendersela relativamente comoda nel primo terzo di salita per chiudere in bellezza ma ripeto questo ha senso soprattutto per un vertical dove c'è una sola salita da affrontare e poi nulla più ci si può riposare il discorso cambia radicalmente nel caso di una lunga scesa apposta all'interno della gara a prescindere che sia l'inizio a metà o alla fine di essa ed allora parliamo della situazione con più salite da affrontare di conseguenza parliamo del pacing da mantenere all'interno di una gara di ultra che probabilmente prevederà più di una salita al suo interno il concetto se vogliamo è un po lo stesso della singola salita ma spalmato sui vari chilometri di tutta la gara la sintesi potrebbe essere questa soprattutto tra gli amatori le persone che fanno un risultato migliore sono quelle che nella seconda parte di gara rallentano di meno pertanto soprattutto agli inizi il vostro ritmo lento è paradossalmente più importante di quello veloce tanto in una gara così non correrete forte a maggior ragione in salita per cui sarà anche banale ma giova ripeterlo non esagerate gestite le energie durante le lunghe ascese mantenendo uno sforzo percepito basso se poi ne avrete di benzina andrete ad aprire il gas nel finale di gara questo comportamento conservativo nella prima parte di gara per noi amatori è spesso la carta vincente per godersi un po di più la gara e fare però anche un buon risultato l'idea che si dovrebbe avere in mente che l'obiettivo è averne ancora per finire forte la gara e non arrivare strisciando solo un atleta particolarmente evoluto potrebbe ottenere performance migliori spingendo dall'inizio alla fine in modo più o meno costante ma questo richiede moltissimo manico tra virgolette nonché grande esperienza e conoscenza di sé è una cosa un po riservata agli elite se vogliamo dirla in un certo modo parliamo un po adesso di strumenti vari e altri consigli il primo secondo me è di usare comut o altri tool di analisi se vi state preparando per una gara procuratevi prima un bel po prima di partire del giorno della gara la sua traccia gpx e poi importatela in uno dei vari strumenti esistenti che vi consentono di analizzarla nel dettaglio io mi trovo benissimo con comut ma di opzioni a vostra disposizione ce ne sono veramente svariate ben prima che dobbiate gareggiare guardate quante salite ci sono dove sono poste e nello specifico come sono fatte con uno sguardo dedicato quest'oggi in questo caso a quelle più lunghe qua potrete capirne meglio le pendenze i terreni il chilometraggio se vanno su regolari o meno se ci sono tratti tecnici e così via valutate anche all'interno del sito della gara se troverete lungo l'ascesa uno o più ristori essere consapevoli di ciò che andrete ad affrontare è il primo passo per potervi gestire al meglio oltre che anche allenarvi di conseguenza cercando di replicare per quanto possibile quelle specificità sfruttate garmin e climb pro o simili in modo paragonabile per certi versi a quanto appena detto se ne avete la possibilità usate le funzioni del vostro sport watch che hanno il dettaglio delle salite per chi non sapesse di cosa sto parlando si tratta di una schermata presente sull'orologio da guardare alla bisogna che contiene il numero di salite che si affronteranno la velocità verticale istantanea e la pendenza da affrontare sotto forma numerica eppure grafica con proprio l'altimetria della salita con le diverse pendenze da guardare ed il punto in cui vi trovate io qua parlo di garmin climb pro perché lo conosco e perché so che garmin è sostanzialmente il brand più diffuso in quanto a sport watch ma esistono anche funzionalità analoghe per altri marchi chiaramente devono essere orologi di medio alta gamma e dedicati specificatamente al trail o comunque l'attività di endurance altrimenti questa opzione non sarà disponibile ma basta guardare nelle specifiche quando comprate prima di comprarlo per vedere se c'è ma se ci fosse durante la gara potreste usarla come riferimento non sarà la bibbia ma da una mano infatti per quanto si sia studiato bene a casa a tavolino il percorso quando si è lì nel vivo della competizione non è che sia così semplice ricordarsi proprio tutto 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 anche perché ci sono gli altri runner c'è da mangiare da bere da pensare ristori magari fare anche due chiacchiere con qualcuno e distrarsi eccetera eccetera però sapere che cosa si sta affrontando attualmente a che punto della salita siete che pendenze chilometri ci saranno ancora da superare può essere un aiuto in più per gestire meglio lo sforzo anche tenendo conto di quanto detto prima circa il pacing utilizzate i bastoncini come sempre prima vi ci dovete allenare però non potete pensare di arrivare in gara senza mai aver usato i bastoncini prima d'ora e poi usarli come se niente fosse però se già li avete e sapete di dover affrontare una gara lunga o con molto dislivello può aver senso provarli utilizzarli prima in allenamento durante i vostri lunghi e poi il giorno appunto della gara se saputi sfruttare adeguatamente riescono a garantire una migliore distribuzione dello sforzo muscolare tra gambe e braccia in sostanza lo sforzo viene ripartito tra la parte alta e bassa del corpo non facendolo invece gravare solo sulle gambe inoltre i bastoncini offrono maggiore stabilità su percorsi tecnici donando anche in questo caso un pizzico di sollievo muscolare non c'è una regola assoluta circa quando usarli c'è chi li userebbe anche per andare a farci la spesa e chi ne fa meno nella quasi totalità delle occasioni la scelta dipende dalla lunghezza e dal dislivello del percorso che si andrà ad affrontare così come dalla tecnicità del terreno in generale i bastoncini sono l'ideale su percorsi particolarmente lunghi e pendenti infatti scaricando una buona parte del peso sulle braccia vi faranno affaticare di meno in salita alimentazione per quanto riguarda questo aspetto alimentare ognuno è un po diverso e abitudini e necessità differenti la cosa fondamentale è continuare ad alimentarsi sempre pure in salita anche se si sta camminando e si ha la sensazione di non bruciare chissà che cosa la mia idea di solito che poi consiglio in generale a tutti è di mangiare ogni tot minuti in modo fisso a prescindere da dove ci si trovi che sia salita pianura o discesa non importa ma se vogliamo è proprio durante un'ascesa che forse si riesce a mangiare pure meglio più facilmente in special modo roba solida andando gioco forza più lentamente si riuscirà a masticare con più facilità in sostanza il vostro piano di reintegro che spero abbiate studiato precedentemente non deve cambiare perché in questo momento ci si trova in salita basta seguirlo senza provare cose strane e fuori dalle vostre abitudini in modo che lo stomaco sia contento e se non si hanno problemi da questo punto di vista una parte del puzzle se vogliamo è già risolta perché in un ultra lo stomaco è piuttosto sollecitato e delicato tenete sotto controllo il respiro ed il vostro sforzo percepito in salita è normale che la frequenza cardiaca si alzi del resto dobbiamo anche lottare contro la gravità potete tenerla sotto controllo con un cardiofrequenzimetro a darci un'occhiata male non fa assolutamente ma io non mi fisserei esclusivamente su questo parametro anche perché spesso è influenzato dall'ansia della gara stessa dall'alimentazione dal disoccupiamento aerobico barra deriva cardiaca ed altri fattori esterni piuttosto proverei a valutare maggiormente la respirazione che è un ottimo modo per monitorare l'intensità del vostro sforzo per evitare inutili fuori giri in salita dovreste essere in grado di parlare per la maggior parte del tempo in caso contrario sarebbe necessario togliere il piede dall'acceleratore naturalmente durante le salite più lunghe si respirerà comunque a fatica e forse si avrà il fiatone ed è del tutto normale per cui concetto simile ma a cui tengo particolarmente perché è un parametro che utilizzo anche per i miei allievi provate a valutare il vostro sforzo percepito il cosiddetto rpie se non sapete di cosa si tratti ne ho parlato anche qualche mese fa in una puntata specifica molto dettagliatamente questa puntata ve la lascio linkata nelle note in poche parole però è mega sintesi gestite l'intensità sul vostro percepito su ciò che sentite e sapendo in questo caso che si tratta di sforzi lunghi dovreste mantenerlo costante al di sotto di una certa soglia con appunto un grado di fatica che sia piuttosto leggero evitate del peso extra ultimo consiglio che poi in realtà questo sarebbe valido sempre non solo per la salita cercate di non portare veramente a spasso del peso non richiesto il che non vuol dire fottersene del regolamento e non portarsi il materiale obbligatorio ma semplicemente evitare qualsiasi oggetto ulteriore che poi non andrete ad usare nel corso della gara viene normale specie i primi tempi che si fa trail essere un po timorosi e portarsi dietro di tutto poi diventando più smaliziati si andranno a limare certe cose il concetto è valido anche e soprattutto per la questione di idratazione secondo me se sapete che a un certo punto della salita o anche in cima vi aspetta un ristoro valutate se è il caso di essere super carichi di acqua certo meglio avere qualcosa in più che in meno è questo assolutamente ma in alcune situazioni mi è capitato proprio in prima persona di sbagliare o vedere altri che sbagliavano in questo senso portandosi dietro molti più liquidi del necessario e questo è tutto peso gratuito che ci si porta dietro sulle spalle che affatica e rallenta inutilmente pure in questo caso si andrà a migliorare con l'esperienza del resto sbagliando si impara questi insomma erano un po i miei consigli per gestire il pacing e lo sforzo durante salite lunghe ci sta chiaramente che mi sia scordato dimenticato qualcosa o che pure pensiate ci siano delle altre cose da dire nel caso fatemelo sapere commentando e scrivendomi mi trovate su telegram instagram e via mail ci sono tutti i miei recapiti in descrizione seguitemi pure sui social non lo dico spesso ma seguitemi pure lì lasciate recensioni a 5 stelline su spotify ed apple podcast e condividete questo e gli altri episodi così come potete sostenermi con donazioni mensili tramite patreon e poi anche questo non lo dico praticamente mai ma in descrizione trovate anche il progettino parallelo 30 giorni da runner dove potete ricevere gratis una mela al giorno a tema corsa per appunto 30 giorni sta tutto quanto nelle note e direi che per oggi è tutto cari runners le salite sono una bella sfida ma vanno affrontate con relativa consapevolezza ci sentiamo alla prossima puntata